Lavoro col diretti Puglia, si registra un più 6,6% di imprese agroalimentari under 35 in Puglia. Bari e Foggia in top 10 nazionale, i dettagli nel servizio. E' cresciuto nel primo semestre del 2017 di un ulteriore 6,6% in Puglia il numero delle imprese agroalimentari under 35 sul totale delle aziende agricole, secondo i dati di Union Camere. Con 5.544 giovani innovatori che in agricoltura sono riusciti a rappresentare prospettive future e ne hanno fatto un mondo di pionieri, rivoluzionari e attivisti impegnati nel costruire un mondo migliore per se stessi e per gli altri, dice col diretti Puglia. Perché dai campi non viene solo una risposta alla disoccupazione e alla crescita del paese, ma anche una speranza rispetto ai tanti giovani costretti a cercare lavoro all'estero. Con l'avvio dei bandi previsti dai piani di sviluppo rurale, segnala col diretti, altri 2.200 agricoltori pugliesi in erba otterranno un sostegno per la ristrutturazione o l'ammodernamento delle loro aziende. Più di 1.700 aziende agricole infatti riceveranno sostenni per la partecipazione a regimi di qualità, a mercati locali e filiere corte, potendo investire nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli. Il risultato è che, secondo un'indagine della Col di Retti, le aziende agricole dei giovani possiedono una superficie superiore di oltre il 54% rispetto alla media, un fatturato più elevato del 75% e il 50% di occupati per azienda in più.